Questo programma è offerto da Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata del nostro TV Talk. Il tema di questa sera è Pasqua perché da oggi inizia ufficialmente il triduo pasquale, la messa in cena domini dà il via alle celebrazioni del mistero pasquale di Cristo e quindi tutti i paesi della Puglia si riuniscono e comunque ci parlano di storie e tradizioni che ci catapultano in un'atmosfera quasi magica in cui diventiamo tutti quanti protagonisti ma anche figuranti. Ne parliamo questa sera con i miei ospiti che saluto subito. Do il benvenuto a Michele Fanelli del Circolo Acri Dalfino, grande conoscitore della storia e delle tradizioni. Buonasera Michele. Saluto anche il professore di religione Michele Loconsole. Buonasera e benvenuto anche a lei. Giochiamo in casa con Renato Ciardo che da questa mattina col Ciardatano si è fermato tutto il giorno e partecipa con noi a questa puntata del TV Talk. Ciao Renato. Grazie per l'invito. Saluto anche il giornalista Eno Gastronomica, un grande amico di Telebari, Sandro Romano collegato in diretta Skype. Buonasera Sandro, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. E allora dicevo si parte da oggi con le celebrazioni dedicate al mistero pasquale. Tra l'altro dobbiamo dire, e lo chiedo subito a Michele, si torna per le strade, si torna con le processioni dopo due anni di stop. Quindi c'è un'atmosfera diversa quest'anno rispetto a quelli passati. Certamente sì, l'abbiamo visto già venerdì scorso con la processione della dorolata. Ecco, i baresi hanno invaso nuovamente le strade per vedere le tradizioni pasquali, per vedere appunto la processione della dorolata. Credo che questo accada anche domani con l'uscita dei misteri, che sono due anni che non escono, come sapete, quest'anno escono tradizionalmente chiamati le Chiangiamino, che sono i misteri più antichi della Vallisa. Penso che questi misteri furono portati, addirittura si nada che il San Pietro con il Gallo faccia parte delle statue portate dagli spagnoli, perché a noi queste processioni, queste usanze, ce li hanno portati gli spagnoli. Poi vedremo che tipo di influenza abbiamo ereditato appunto dalla Spagna. Professore Console, quando si parla di mistero pasquale, di celebrazione, abbiamo detto che c'è da un lato ovviamente il profilo più religioso, dall'altro il profilo più profano e anche che riguarda anche la tradizione. È una linea non così netta, nel senso che poi coinvolge tutti, fedeli e anche chi è un po' più distaccato dalla religione. Certo, indubbiamente. Il cristianessimo faccia conto che è l'incarnazione del Cristo. Quindi nel momento in cui noi abbiamo visto la persona di Gesù di Nazareth presentandosi come il dio di questa nuova religione, il cristianessimo appunto, è nata l'idea di poterlo riprodurre sulle pareti delle catacombe. Nasce lì l'arte cristiana, paleocristiana, antica, e poi si è sviluppata nei modi in cui noi conosciamo. È una tendenza, questa del cristianessimo, a disegnare, cioè a rendere visibile il fenomeno cristiano e le storie del Vangelo in generale, che è tipico della religione cristiana. Non si trovano tracce di questa modalità in altre religioni monoteiste. In qualche modo è un recupero, se vogliamo, del paganessimo, della cultura romana, soprattutto e greca. E i misteri rappresentano un'ulteriore declinazione di questa visibilizzazione, che diventa poi popolare. Pensiamo, faccio un esempio, alla Via Crucis, alle 14 stazioni che abbiamo nelle chiese, che riproducono in qualche modo artisticamente i misteri fondamentali della Settimana Santa, ma anche i calvari che la nostra Puglia, e non solo la Puglia, ne ha quasi in tutti i paesi, cioè sono le riproduzioni dei fatti dell'ultima settimana di Gerusalemme in Puglia, appunto come anche in Spagna, nel Meridione, perché noi possiamo riprodurre questi fatti iconicamente, in quanto la teologia stessa del cristianessimo ce lo permette, attraverso l'incarnazione di Cristo. Col grande potere e la grande forza delle immagini, in questo caso, che vedremo poi nel corso di questa puntata. Renato, ovviamente ti abbiamo chiamato perché quello dell'artista, tu incarni a tutto tondo, è un osservatorio privilegiato, quando si parla di storie, di tradizioni. Magari ci racconterai durante questa puntata come l'hai vissuta da bambino e come la vivi oggi con una prospettiva indubbiamente diversa, però la cosa bella di questi riti, che sono intrinseci di storia all'interno della loro esperienza. Io non vedevo l'ora, infatti, come stavamo parlando prima, con Michele, con Michele Fanelli, che salutiamo! Dicevo, amici, per questo lo imito. Abbiamo due Michele Fanelli in studio, quindi. Un e due. Sono passati due anni, purtroppo, chiusi. Io che ho due bambini che hanno sei anni, avrei potuto, anzi avrei dovuto, portarli in giro gli anni scorsi, cosa che farò sicuramente stasera. Ma più che altro per vivere quello che noi abbiamo vissuto negli anni. Io ne ho 48. A differenza tu, Michele, è... Ma poi non balla l'accento. E' un'imitazione, non è che... Pone l'accento di alcune caratteristiche. Vicky non balla l'accento. E quindi, niente, non vedo l'ora, appunto, di portare i miei figli, anzi i nostri figli, a vedere questa bellezza, poi, alla fine, che abbiamo perso per due anni. Per quanto mi riguarda, io non vedevo l'ora, quando ero piccolino, di farmi queste benedette chiese. Quindi con i miei nonni, con mia madre, perché papà stava sempre fuori. E ogni volta che ci portavano in giro, tu respiravi questa magia nell'aria, perché comunque noi ce ne facevamo sette. Perché mi hanno sempre detto che sette è il numero... No, tre. Ah, tre, cinque o sette. L'importante è che sia dispari. Addirittura so di gente che se ne è fatta 21 di chiese. Quindi cominciavano alle tre del pomeriggio fino a mezzanotte. Forse perché non dovremmo ciò fare. E quindi si facevano 21 chiese. E quindi non vedo l'ora stasera di andare in giro, insomma. Allora, Sandro Romano, quando si parla di riti, di tradizioni, non si può prescindere dalla cucina, che ovviamente è un grande patrimonio di storia del nostro territorio. E in questo caso abbiamo tanta ispirazione dalla Pasqua. Partiamo subito con la giornata di questa sera. C'è un piatto tipico che si utilizza, che si mangia nel giovedì dei sepolchi? Poi vedremo che non si chiamano in realtà sepolchi, ma lo spiegheremo dopo. Sandro. Senti, il giorno dei sepolchi non mi risulta che ci sia un piatto particolarmente tipico di questo periodo. Quello che invece mi piacerebbe ricordare, riferendomi a quello che diceva prima Renato, riguardo alla processione, questo portare in giro i bambini nel periodo pasquale in cui ci sono appunto le processioni. Ecco, io ricordo invece di avere subito una specie di trauma nel periodo in cui si andava per la Madonna dolorata. Quando ero bambino mia nonna mi portava a questa processione e io vedevo chiaramente una grandissima folla e da tutte queste teste spuntare questa statua con il volto triste, maciato, che mi metteva davvero paura. Ed è qualcosa che mi è rimasto tutt'oggi. Cioè ancora oggi io se incontro la statua della Madonna dolorata mi rimane un pochettino questa quest'ansia, questa angoscia. È vero, mi trovi d'accordo. L'avete fatto apposta. Allora, andiamo subito nella nostra postazione social. Avremo tanti contributi in questa ora di trasmissione insieme. E allora, ripercorriamo un po' i riti, le tradizioni che riguardano la nostra regione. Lo facciamo attraverso la postazione social dove c'è per noi Italo Cinquepalmi che ci parla di una prima tradizione che si rispetta nella nostra regione. Poi chiederò il vostro parere. Italo, buonasera. Buonasera Alessandra, un saluto ai nostri ospiti. Allora, in alcuni borghi pugliesi esiste una tradizione sempre unica e originale. Parliamo oggi delle pupe della quarantana, bambole che vengono appese nel periodo della quaresima per le strade di vari borghi come Casa Massima, Conversano, Ruvolo, Corotondo, Martina Franca e anche in dei paesi della Dauni e del Salento e ciascun paese ha sviluppato nel tempo diverse versioni ed eventi dedicate alle bambole di stoffa. Tra i paesi in cui è particolarmente forte la tradizione delle pupe c'è Casa Massima dove ciascuna bambola addirittura ha un proprio nome e un vestiario che le identifica. Sono sette pupe fatte a mano solitamente tenute in alto da un filo o una ramazza a tre balconi vengono fatte cadere una alla settimana ogni domenica fino al giorno di Pasqua. La caduta di ciascuna bambola era seguita secondo la tradizione dalla distribuzione di regali e dolci per i bambini del paese. Le sette pupe vengono esposte il mercoledì delle ceneri e l'ultima cadrà quest'anno il 17 aprile. A collocorotondo invece viene esposta a Quarandena si chiama in dialetto una vecchia sdentata e vestita a lutto che rappresenta la quaresima moglie del defunto Carnevale. La stessa effigie viene fatta letteralmente esplodere al ruvo di Puglia durante l'evento dello scoppio della quarantana che si tiene proprio nel giorno di Pasqua ancora a Castellaneta nel 2021 ricordiamo sono state esposte le pupattole provenienti da un'antica usanza popolare a Conversano ancora invece venivano esposte le sette pupattole nei pressi del castello degli Acquaviva d'Aragona e nel centro storico la Proloco locale ha anche pubblicato su Youtube un utile tutorial per dare la possibilità a ognuno di realizzare la propria pupa della quarantana. Bene con questo è tutto a dopo. Grazie Italo tra pochissimo vi mostriamo anche la quarantena di Bari quindi state con noi perché tra poco ve la mostriamo ed è molto come dire significativa allora intanto chiedo al professor Loconsole queste quarantane onestamente non sapevo l'esistenza di questa usanza di queste bambole che vengono appese sono sette in particolare e soprattutto raccontano di una tradizione molto radicata in alcuni paesi anche a Bari in alcuni paesi della Puglia ovviamente a Bari molto meno in provincia soprattutto nel Salento come ricordate il servizio e siamo sempre lì cioè il discorso è sempre quello della rappresentazione teatrale se vogliamo cioè il punto è sempre quello ovvero la nostra fede si incarna non solo in quella che è la credenza fondamentale che è l'eucaristia la presenza reale del corpo di Cristo ma si incarna proprio nelle scene sia pittoriche che artistiche pensi per esempio al teatro ecco un altro grande recupero che ha fatto il cristianesimo oltre l'arte è proprio il teatro recuperandolo naturalmente sempre dal paganesimo cioè dal mondo greco e dal mondo romano però ovviamente cristianizzandolo i misteri in qualche modo e queste bambole vanno a ripresentare proprio la parte popolare dell'arte che guarda caso nasce nel Medioevo soprattutto da noi in Puglia in Italia con l'influenza spagnola che ha toccato anche la nostra regione poi addirittura l'introduzione di questi complessi scenografici chiamati appunto i misteri che mi piace sottolineare che in greco traducono la parola sacramento più che riproposizione del fatto legato cioè segno in questo caso ecco la questione è il segno e la fede quanto più è semplice diretta immediata popolare più diventa efficace questo è importante una piccola nota se posso in Puglia noi abbiamo sempre per questo rapporto tra l'Oriente e l'Occidente quindi la teatralità delle scene a causa poi dalla presenza islamica sappiamo che fu difficile andare in pellegrinaggio abbiamo riprodotto i Calvari ma abbiamo riprodotto in Puglia è bene saperlo due luoghi che unici al mondo riproducono l'interno e l'esterno del santo sepolcro di Gerusalemme a Molfetta nella Madonna dei Martiri c'è la tomba di Gesù interna in scala 1 a 1 con pietre gerosolimitane del tutto identiche a quelle di Gerusalemme mentre a Canosa c'è la parte esterna della tomba di Cristo che è poi il mausoleo di Boimondo il noto capo crociato morto nel 1111 a Canosa che volle riprodurre lo stesso disegno architettonico della tomba di Gesù che guarda caso lì è andata distrutta poi è stata ricostruita in epoca barocca e a Canosa abbiamo proprio la riproduzione in scala 1 a 1 come era la tomba di Gesù fino in epoca medievale inoltrata questo per dire come la nostra regione grazie alla Spagna ma soprattutto il rapporto tra l'Oriente e l'Occidente e le Crociate in modo particolare è stato il centro di questo condensamento non soltanto artistico ma come vediamo anche teatrale una vera culla di storia Michele vengo subito da te perché voglio far vedere invece l'immagine appunto stiamo parlando per immagini che rappresenta la quaresima adesso a Sandro Renato mi piacerebbe che ci raccontassi tu questa immagine che stiamo per mostrare eccola qua la quaresima giusto? la quaresima e praticamente io qui sono stato immortalato durante uno spettacolo che ho fatto con la Rimban Band dove a un certo punto dello spettacolo vengo fuori simulando praticamente la parte di una mamma che ha perso il figlio quindi stiamo lì siamo lì assolutamente e quindi mi è venuto spontaneo a fare questa poi mi hanno scattato questa poi ho detto ehi prevede la madonna devo dire che può essere adattata a vari contesti eh sì alla parola o per esempio quando a Bari dici che nel riso patate e cozza serve la zucchina quell'immagine può andare bene Sandro assolutamente anche se c'è moltissima gente che è convinta è convinta perché dicono che la zucchina inumidisca un po' il piatto allora intanto la vediamo l'immagine scusate se vi interrompo però la vediamo questa credo che sia faccia riferimento proprio alla città a Barivecchia credo a Barivecchia queste cose francamente non se ne vedono però volevo dire a riguardo proprio a quello che ha detto il professore e questi riti questi riti questi riti sono anche l'espressione del territorio per esempio a casa Massimo con queste pupe che vogliono rappresentare il momento della passione però molto di più è legato alla passione della Vergine se tu vedi sono sette pupe molte delle quali sono tutte nere vuole ricordare la Madonna la Dolorata perché sette è un numero importante sette è un numero sacro sette sono i sacramenti ma sette sono anche le pugnalate i dolori di Maria e quindi molto spesso specialmente qui a casa Massimo vogliono rappresentare anche in questa forma così diciamo di emozione attraverso la visibilità quello che dice il professore è esattissimo noi per esempio abbiamo a Bari l'usanza un po' diversa noi per esempio stasera ai sepolcri ai sepolcri c'è questa volontà popolare di abbellire il sepolcro di Cristo come con le cose genuine con le cose della natura il piatto votivo il piatto votivo è un'espressione di devozione popolare al Cristo al Cristo morto al Cristo che in attesa che risolga e si fanno questi piatti dove si mettono lenticchie le fave bianche il grano e lo si fa crescere al buio sotto l'It e lo si adorna lo si adorna con ovata e raso con i colori preposti alla passione e dove lo si dedica con la figura al Cristo morto alla dolorata e così via intanto ringraziamo la regia che ci sta mostrando le immagini del 2019 credo siano gli ultimi sepolchi che abbiamo potuto fare senza i vincoli imposti ovviamente dal covid oggi ci avviciniamo attraverso l'allentamento delle misure anti covid sperando poi di poter tornare a vivere esattamente come queste immagini ci raccontano allora dobbiamo intanto Michele velocemente non si chiamano sepolcri ma si chiamano altari della reposizione perché riproducono l'ultima cena di Gesù giusto? certamente sono altari della reposizione ma nel gergo popolare noi li chiamiamo le chiese che sono i sepolcri però giustamente con l'evoluzione con l'emancipazione oggi perché oggi poi tutti ci sentiamo professori oggi l'evoluzione ci ha toccato un po' tutti un po' più schicchiato che non contano non ha fatto meno non ha detto meno no ma non si chiamano così si chiamano colà allora ognuno ha libertà di dire però per noi i baresi i baresi i vecchiani sarà senso le chiese dove c'è una usanza ecco quello che diceva Michele la religiosità popolare è ben diversa dalle indicazioni della fede sono espressioni del popolo che manifesta attraverso la propria ignoranza e la propria non cultura la propria fede e quindi stasera per esempio si fanno le chiese no? le chiese vuole che li si faccia dispari 1, 3, 5, 7 e c'è la tradizione recita dove devi dire la prima uno padre nostro una madre maria e una madre maria e una madre maria secondo la chiesa raddoppi la posta due padri nostri due maria e così qualcuno ha fatto venduta mi è tutta la finata e dice lo so perché venduta non più che sangerà però c'è ecco questa voglia di ritornare a questo perché come diceva Michele la religiosità popolare l'abbiamo così tanto sacrificata l'abbiamo criticata ma noi possiamo dire che i nostri genitori che non sapevano leggere e scrivere e parlavano con le edicole votive parlavano perché attraverso le quali hanno dato speranza fiducia hanno fatto cambiare questa città e possiamo dire che queste persone non avevano fede però hanno manifestato la propria fede attraverso queste manifestazioni popolari ecco Sandro la mia domanda è nonostante la modernità avanzi ho la sensazione nonostante tanti progressi che si fanno in cucina la sensazione però che queste festività siano come dire una reunion con la nostra tradizione e con il nostro passato perché si tendono a rispettare le tradizioni a tavola è così o no? beh sì noi baresi siamo parecchio legati alle tradizioni in realtà la Pasqua è un momento più breve rispetto al periodo natalizio perché si sa a Natale cominciamo ai primi di dicembre sono tutte occasioni per ritrovarsi insieme e mangiare tanto Pasqua si riduce alla domenica e a lunedì lunedì giornata in cui poi si fa quando si può e quando il tempo ci aiuta la cosiddetta scampagnata il picnic però sì noi i baresi siamo sempre stati molto legati alle tradizioni a questo stare insieme a tavola che è tipico non solo di queste feste che Michele Fanelli chiamerebbe terribili giusto? Michele? guarda il modo dei due però siamo siamo legati a questo questo modo di incontrarsi che è anche della domenica la domenica è come se fosse una continua festa durante tutto l'anno esatto allora a proposito di tradizioni e di storia si Sandro scusami ti ho interrotto no volevo dire a Renato che non mi mette paura in quella fotografia anzi mi fa mi fa sorridere la domenica mi metteva tanto di più quando ero bambino volevo chiederti questa cosa UBENDIT ah ma poi dobbiamo aprire tutto il capitolo e una cucina è una fuga in avanti UBENDIT allora io so per certo che nel piatto tu metti dall'arancia all'uovo sodo alla soppressata la ricotta fritta no la ricotta fritta la ricotta fritta si è aggiunta dopo perché la ricotta è l'elemento essenziale è di ultima generazione no 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 è l'elemento essenziale del pranzo di Pasqua la ricotta guarda per esempio scusami Renato ma c'è per esempio il pranzo di Pasqua poi se vogliamo ritorniamo dopo aver mangiato la pasta al forno c'è un piatto che nella tradizione non deve mancare lo so UDQ brava UDQ UDQ è la pasta con la ricotta con le scaglie di limone la ricotta con la grattata di limone è con zucchero perché è dolce e si mangia un cucchiaio perché porta si dice che porta prosperità porta bene e non deve mancare perché dopo porta bene mangia una chiacchiaio e non deve mancare un cucchiaio poi daremo tutto il menù ovviamente Renato stavi concludendo quello che vorrei capire è se tu mangi l'arancio e subito dopo mangi la ricotta non fai sciaccio è vero vabbè vabbè dici tu con tutto quello che mangerai con le voce c'è il motivo se posso sì certo questo benedetto è un piatto ebraico da Baruch cioè è stato importato noi abbiamo una giudecca dove c'era la c'è la cattedrale c'era la giudecca gli ebrei gli ebrei la sinagoga e voi sapete che la città pasquale comincia con la celebre domanda che il più piccolo fa il più grande il padre o il nonno padre nonno in che cosa è diversa questa sera e il nonno il padre mangiando il cibo ebraico però spiega al bambino e alla famiglia e quello il dito pasquale i fatti dell'essodo degli ebrei la pasqua ebraica e loro non hanno i nostri cibi ovviamente dato che mettono insieme l'erbia mare con il dolce perché devono significare i momenti delle tribolazioni degli ebrei e poi finalmente la parte gioiosa quindi con il dolce a noi è rimasto questo piatto che lo abbiamo localizzato ecco la cultura la giunta locale barese ma la conoscenza di questo piatto che per noi non ha significato teologico ma soltanto culturale ecco come vediamo lo vediamo in televisione il benedetto eccolo qua ecco viene proprio dall'apporto con i ebrei è stato arricchito perché chi vuole aggiunga ecco perché c'è l'acido in più molte aggiungono per esempio in questo caso il capofamiglia è obbligato a benedire l'antipasto con la muscella d'olivo con la muscella d'olivo delle palme e con l'acqua santa per le vate dalla santa tutta la seconda parte la dedicheremo alla cucina perché ho visto che vi ha animato molto il tema quindi allora ancora un po' di cenni storici perché come sapete domani c'è la processione dei misteri e Bari è stato un teatro di un'antica guerra tra due congreghe quella della Valisa e quella di San Gregorio allora Giuseppe Bellino ci racconta questa storia e poi ovviamente intervisterà i protagonisti di quest'anno che sono quelli della confraternita della Valisa andiamo a vedere il servizio e torniamo in studio il momento è ormai arrivato dopo due anni di stoppa a causa della pandemia in Puglia tornano i riti della passione durante il venerdì santo l'espressione massima della pietà popolare rappresentata dalla processione dei misteri una tradizione popolare ereditata dalla Spagna durante il dominio dell'impero borbonico e tramandata di generazione in generazione fino ai nostri giorni la città di Bari è unica nel suo genere fin dal XVII secolo erano due le processioni che giravano la città durante il venerdì santo una organizzata dalla Valisa e l'altra da San Gregorio col passare del tempo crescevano i dissapori tra le due fazioni e nel 1825 Monsignor Basilio Clari decise di alternare i due eventi negli anni pari toccava e tocca tuttora la Valisa negli anni dispari l'organizzazione aspettava San Gregorio tornare a organizzare la processione dei misteri dopo due anni di stop forzato rappresenta una grande gioia per i fedeli e c'è una grande emozione c'è come fosse un ritorno un'emozione anche a esprimere questo e niente noi siamo presi ed è anche inspiegabile poter dire cosa si prova all'interno di noi perché per esempio noi la nostra famiglia già dal 1800 e 1920 c'è stato il mio bisnonno e poi è arrivato anche il mio turno dopo tanto tempo nel 92 è arrivato anche il mio posto ma è ripeto è inspiegabile poter dire l'emozione perché in quel giorno il venerdì San tornano tutti i ricordi delle famiglie a casa mia era gran festa era uguale a un matrimonio il giorno della processione Vallisa e San Gregorio una competizione lunga quasi tre secoli che ha generato credenze popolari e appellativi per deridere la fazione opposta noi ci chiamano le chiamate perché dicono che quando escono quelli della Vallisa piove e quando escono quelli di San Gregorio lo vende l'us perché c'è vento e quindi con questi due detti le squadre le compagnie si se ne davano addosso la processione dei misteri della Vallisa è composta da nove statue la più antica e più preziosa è quella che raffigura San Pietro realizzata nella prima metà del Settecento dallo scultore andriese Nicola Antonio Brudaglio la figura chiave per la buona riuscita della processione è senza dubbio quella del portatore ruolo ambito e denso di significato da quando hai iniziato a fare il portatore? io dal 1986 1986 no tra l'altro facevo un mestiere che non potevo frequentare facevo un marittimo e quindi quando era il momento raggiungevo per fare la passione della Madonna raggiungevo da ogni parte che mi trovavo lasciavo tutto e venivo a partecipare alla passione della Madonna dolorata intanto fervono i preparativi per organizzare l'evento si lavora senza sosta all'interno della chiesa di San Gaetano ormai anche con gli addobbi siamo quasi al completo nel pomeriggio ci sarà diciamo una pulitura generale poi si chiude tutto si torna qui giovedì venerdì mattina alle 9 parte la processione e allora un parterre particolarmente vi piace quello di questa sera perché poi nel fuorionda si raccontano tante altre cose quest'anno è la volta della confraternita della Vallisa altrimenti detti Chiangiaminulo però si prevede si prevede Chiangiaminulo però si prevede vento questo venerdino perché noi nella città vecchia abbiamo messo i soprannomi dappertutto quindi anche ai santi è perché nel 1800 sapete la storia uscivano solo i santi della Vallisa poi siccome la cosa piacque perché tutti volevano i pasquali sono i portatori allora volevano portare altri santi ecco per cui nacque la processione di San Gregorio con altre stati uguali a quelle della Vallisa le due processioni uscivano in contemporanea il venerdì santo in corso Vittorio Emanuele all'epoca corso a Ferdinandeo con i borboni e si sfottevano gli uni gli altri la Madonna la dolorata e noi più bella fatta che dà la vostra Gesù con la canna da noi a noi a noi a corte a noi a lunga e allora questa cosa non piacca a Monsignor Calarì il vescovo dell'epoca che ordinò che le processioni dovevano uscire dagli alterni gli anni pari la Vallisa gli anni disperi che tutti che stavano andavano per una siamo andavano le sentite allora quelle sono anche le gocce a voi abitare se avete fede che voglio faccio l'acqua e l'hanno chiamato le santi Chiangiamini che quando è chi è che dopo della vantista nevo manca l'ora fissa quando sento chi dà la v a vita sei ad affetti e faccio una tromba d'arrivo porta nanzi nanzi e l'hanno chiamato le vende luci ma guarda che noi ancora oggi diciamo ci è le vende luci o le chiangiamini e andiamo subito a guardare il meteo è facile che di questo periodo faccia un poco di acqua allora ci dobbiamo fermare dobbiamo andare in pausa pubblicitaria per qualche istante ma restate con noi perché nella seconda parte parleremo di tradizioni a tavola ce ne sono tantissime e anche loro raccontano una storia che riguarda la Puglia a tra poco e rieccoci ancora qui per la seconda parte del nostro Tibi Talk stiamo parlando di storie e tradizioni che riguardano le festività pasquali con il triduo che inizia proprio questa sera e allora dobbiamo concentrarci sulla cucina che un po' racconta ovviamente le nostre radici le nostre tradizioni è un po' il simbolo identitario della Puglia anche quando si parla di celebrazioni come il mistero pasquale io parto subito da Sandro Romano perché avremo poi dei servizi che vorrei commentassimo insieme ovviamente domani sera quindi venerdì giorno dedicato alla processione la carne è bandita come sappiamo sì in effetto una cosa che abbiamo detto prima è che non c'è un piatto particolare però sicuramente non si mangia carne è importantissimo questo quindi sicuramente va bene qualsiasi cosa che riguardi il pesce dalle cozze al polpo tutti i piatti che sono che fanno parte della nostra cultura e della nostra tradizione e allora a proposito di cultura e tradizione il nostro Roberto Maggi ha intervistato una star di TikTok baresissima e si chiama Nonna Titina e ci racconta molti segreti sulla cucina ho fatto anche la riva non volendo allora andiamo a vederlo insieme e torniamo in studio i suoi video su TikTok le hanno consentito di superare i 97.000 follower tra ricette e battute divertenti adesso è stata eletta dai social come la Nonna Barese il suo nome è Tonia in arte Titina sì perché grazie a sua figlia Rosa divenuta sui social Carolina Stallone oggi è una vera e propria star chi meglio di lei poteva quest'anno illustrarci il menù della tradizione da preparare per Pasqua siamo stati nella sua casa al quartiere San Paolo di Bari Titina ci tiene a dirlo però è di Bari vecchia ed è lì che ha imparato l'arte della cucina l'attitudine per il mondo dei social network invece è arrivata per strappare un sorriso all'altra sua figlia da tempo malata ma che grazie al sorriso della mamma sta combattendo con coraggio il suo male io non devo mangiare lei e lei mi sforzo mi faccio capi poi ogni tanto vecchi piccolini grandi che mi ridono la no la no e io le voglio bene come le figlie le esce se metto con un tic 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 ci ho capito i figli e non posso fare magari la occupa chi mamma fai vedere come prepari le braggiole di melenzana dopo fredde allora le steinde queste sono poi come fai metto riempie di mozzarella io vivo in questa casa con una figlia con un cancro e non so se mi spiego però c'ho sempre la vista la bocca è iniziata proprio così da quando mia sorella ha avuto sto male allora noi poi c'è stata il covid per questa pandemia allora mia sorella per divertisti mi diceva sempre filma mamma filma mamma perché lei si voleva divertire così il giorno che veniva da fare la chemio invece di stare male noi la facevamo sorridere nello stesso contesto mia sorella stando in un gruppo con tutte queste ragazze guerriere come lei in un'associazione cuore di donna loro dicevano Francesca fai sfottere da rosa mamma tua così regali anche a noi un sorriso buongiorno a tutti vorrei dire un buongiorno per tutti questa settimana è la settimana di quaresima uscirà la madonna venerdì preghiamo per tutti per tutta umanità non abbiamo questa guerra in corpo se il sorriso è l'ingrediente segreto per ogni ricetta non bisogna però trascurare alcuni dettagli che fanno la differenza tra un piatto meraviglioso o uno venuto benino o meglio come preferisce dire titina tra un piatto barese oppure no io c'è una cosa che faccio con la barbicchina metto cipode metto gli aghi metto pedresino metto tutto ciò che mette mia madre e mio padre però questa modernità non voglio gli agli gli cipode e io dico voi voglio perché è scanzato Pasqua ma viene Pasqua e io faccio la tradizione a me a me non mi dico il cristiano e vengono bene io voglio fare un benedetto ma mia madre faceva la sabra non so se la sapete la sabra è un problema le uova a sud mi hanno piatto il muovo sono tutte canarute bornati a un prosciutto crudo il prosciutto questo perché prima non esisteva come prima le braccia le faccio a mia madre e io le faccio però contento a fare due cannello ripieno o lasagne il giorno di Pasqua poi faccio l'agnella rostita due braciolette due rigoldini un po' di frutti di mare e poi la giornata di Pasqua faccio la pizza di ricotta la colomba pasquale ha passato l'acqua il lunedì faccio piscelle e scarciò quella è la vera tradizione l'arretto benedetto noi diciamo benedetto e poi faccio le cartolette lambione lambacione come diciamo lambacione e le scarciofre quella è l'altro piatto che faccio lunedì non faccio più arroz e la capuzza la capuzza la capuzza la capuzza dell'agnella io metto pepe sale e olio e metto nel foco quindi e mangiamo il giorno della Pasquetta poi di nuovo la colomba ci stiamo perché è quella adesso ci sono molti vegetariani che dicono niente più sono diventati tutti vegetariani tutti come dice bacon ma c'è così prima mangiamo filo per tendere stiamo tutti bui l'ammirazione per Titina è arrivata al punto che la scorsa Pasqua sono arrivati messaggi da tutto il mondo per offrire un uovo di Pasqua un pensiero che ha fatto certamente piacere ma che è stato gentilmente rifiutato mi hanno scritto che mi vogliono regalare un uovo di cioccolato e io le ringrazio nel fondo del mio cuore le ringrazio a tutti però invece di darlo a me loro di essere quei bambini sono meno fortunati io sarò la donna più felice del mondo che ci si sieda o meno a tavola però l'importante è che si comprenda il vero significato di questa festività soprattutto in un momento storico particolare come questo se avete date non che le terche se le avete date fate bene al pop non a me io non voglio il box sotto il signor la salve allora un applauso un saluto e un bacio alla signora di Dina bravissima anche ci ha dato dei messaggi di vita importanti bisogna essere felici anche con poco posso guarda questa testimonianza di questa donna è emblematico perché come vedi nella semplicità nella povertà non dico nell'ignoranza ma nella non cultura ecco si esprimono dei valori fondanti questa donna sta manifestando la cultura popolare attraverso un dolore interno e guarda che non è da poco che è sovrapponibile anche al messaggio pasquale dopo il dramma arriva la resurrezione in questo periodo questo è un grosso messaggio pasquale è una bella testimonianza anche perché Titina ci dimostra come pur avendo tutto però si può anche decidere di essere felici anche con poco insomma un messaggio che a volte dimentichiamo nonostante stiamo tutti bene in questo momento per fortuna Alessandro io volevo chiederti se tu avessi mai mangiato il tarallo kushlep no prova dirlo tu è dolce tarallo kushlep tarallo kushlep questo è il vero dolce di Pasqua perché poi è venuta la scarcella ma quando eravamo piccoli noi andavamo dietro alle processioni dicevo prima a loro c'era l'uomo che vendeva proprio i taralli kushlep ma non sai che cosa e diceva un zucco e diceva ciambe tarallo e zucco ciambe tarallo e compravamo i taralli di zucchero perché quello era il vero dolce di Pasqua Sandro a proposito di tradizioni appunto il menù di Pasqua a me ha fatto sorridere perché a un certo punto la signora Titina giustamente dice oggi sono tutti vegani vegetariani intolleranti è chiaro che ci sono molte ricette che ereditiamo dal passato ecco queste ricette vengono rivisitate o devono essere fatte così come la tradizione ce le tramanda diciamo che la tradizione la fa da padrona in queste feste particolari è difficile che in casa ci siano delle vere proprie rivisitazioni magari questo può accadere più nei ristoranti però a casa si rispetta la tradizione il piatto principe della domenica è il timballo il timballo di maccheroni al forno e poi si torna a mangiare la carne quindi carne che è sempre l'agnello o il capretto tra l'altro ci sono più preparazioni di agnello che vanno dall'agnello tradizionale al forno con le patate che possono essere al forno fritte alla preparazione classica del lunedì che è quello che si chiama verdetto o verdit bravo questa minestra di piselli con l'agnello cotto all'interno di questa minestra di piselli e nella quale veniva strafazzato l'uovo l'uovo questa è la ricetta tipica del venerdì scusami del lunedì dell'angelo oh Sandro mi stanno facendo venire la fam Sandro mi stanno facendo venire la fam come Sandro anche scusami Sandro anche per esempio come ha detto la signora la capuz la capuz la testina d'agnello era proprio l'oggetto pasquale il piatto pasquale come l'altro piatto tipico pasquale era il marro il marro è una sorta di involtino che veniva fatto lo stesso con le patate ed era un involtino grosso chiamato mar ed era un altro piatto tipicamente pasquale ma i prati tipici sono quelli che ha detto lui tipico il lunedì per esempio over date over date non deve mancare la tavola c'è tutta una storia dietro alcuni simboli pasquali ne parliamo tra poco perché vorrei ritornare un attimo sulla processione di domani lo facciamo tornando in postazione social da Italo Italo vengo da te parliamo ora di una suggestiva tradizione legata sempre alla settimana santa che è quella dei crociferi uomini coperti da un saio nero incappucciati e a piedi scalzi che trascinano una croce e appesantiti da una catena percorrono le strade di Noicattaro per condividere il dolore fisico che patì Gesù durante la passione si tratta di una tradizione antica durante il XVII secolo un nobile spagnolo infatti per non interrompere la tradizione che osservava nella sua terra si fece costruire una croce da un falegname noiano e cominciò a girare per le vie di Noicattaro il rito si è così ripetuto pressoché ininterrottamente tranne negli anni della seconda guerra mondiale e anche negli ultimi due caratterizzati dalla pandemia la partenza dei crociferi avviene dalla chiesa di Sant'Agostino dove viene acceso anche un grande falò con la legna raccolta durante l'anno mentre il fuoco illumina la chiesa c'è la vestizione del primo crocifero che dà il via a lungo cammino penitenziale croce sulle spalle con una corona di spine scalzi e con una catena che ne appesantisce il passo i crociferi si avviano verso la chiesa madre facendo però tappa in tutte le altre chiese di Noicattaro e ogni volta lasciano all'esterno della chiesa la croce di legno per andare a inginocchiarsi all'altare si tolgono la catena e con queste si percuotono per darsi la disciplina le croci portate in processione vengono realizzate dai falegnami locali in base alla stazza del portatore ogni crocifero si fa costruire una croce personale a seconda del peso che può portare una croce può pesare anche dai 200 fino ai 50 chili e ciascun crocifero può anche portarsi la croce a casa come cimelio il tutto avviene in un'atmosfera quasi surreale con il paese che assiste in silenzio al passaggio dei crociferi bene con questo è tutto quindi per oggi Alessandra un saluto a te e ai nostri ospiti grazie Italo sono tante le processioni abbiamo detto che animano i centri di tutta la Puglia ognuno con una sua tradizione c'è per esempio anche quella di Ruvo abbiamo delle immagini che ci ha inviato il nostro collega Gianluca Battista ed è la processione particolarmente sentita a Ruvo di Puglia lo vedete adesso in queste immagini sono otto santi che sono usciti stanotte le 2.30 dalla chiesa di San Rocco che è la confraternita più antica di Puglia l'ultima processione si è tenuta nel 2019 ovviamente ha risentito anche Ruvo delle restrizioni da Covid e si tratta della centesima edizione della processione degli otto santi che è durata poi tutta la notte fino a questa mattina anche qui c'è una tradizione che riguarda i portatori che si tramando ovviamente di generazione in generazione credo che questo sia un punto ormai comune a molti paesi della Puglia sono stati realizzati i santi che vedete appunto rappresentati in questa immagine sono stati realizzati dai maestri cartapestai leccesi e risalgono tutti all'Ottocento c'è una grande tradizione che riguarda queste statue che si chiamano non queste in particolare ma un po' tutte forse quelle di Bari si chiamano senza cero perché? Sì le statue i misteri antichi quelli del XV e XVI secolo sono in legno poi dopo per motivi tecnici per alleggerire in qualche modo il complesso è evidentemente subentrata la cartapesta che ha dato un grandissimo contributo anche nelle finezze di raggiungimento artistico sotto alcuni aspetti no le statue quelle in legno vengono distinte in sincere e non sincere e tutto deriva dall'etimologia di questo termine perché sincero viene dal latino sine cera cioè senza cera cosa accadeva che nel momento in cui la statua in legno per motivi atmosferici presentava qualche crepa e quindi doveva essere restaurata gli antichi restauratori ponevano nella fissura la cera ovviamente per riaggiustarle in qualche modo e poi ricolorarla nel caso delle statue baressi possiamo dire che sono statue sincere perché i restauri sono stati ma molto molto lievi e per cui ci piace ricordarli in questo modo ecco come statue sincere un segno che li contraddistingue sono nove per una confraternità e dieci per l'altra semplicemente sono nove uguali solo che la confraterna credo quella di di San Gregorio quella di San Gregorio ha la maddalena staccata dal sepolcro ma comunque la decima la non e la decima di chi ne ha dieci rappresenterebbero un unico mistero cioè la maddalena che va al sepolcro e che di sepolcro ogni giorno ogni giorno il Cerdatano insieme a Silvia Le Sandoni ti tiene compagnia a tutti i nostri fedelissimi telespettatori ne avete parlato anche oggi c'è una grande filmografia che riguarda proprio la passione di Cristo tantissimi addirittura abbiamo citato pure Marcellino Panevino bellissimo film non dico come finisce perché ci sono molti giovani che neanche sanno dell'esistenza di un film del genere ma poi vabbè da Gesù di Nazareth del grandissimo Zeffirelli alla passione di Christian di Mel Gibson infatti ne stavamo parlando prima lì c'è un di un altro Amatera tra l'altro sì Amatera lì c'è una c'è un piccolo una piccola scena dove si vede quello che è successo veramente secondo noi giusto? sì proprio così Pane della flagellazione bravissima da Flavrum Romanum certo che molti hanno visto e hanno detto vabbè è troppo esagerato no secondo noi è andato proprio così una fedele ricostruzione storica sì 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 perché poi se vuoi dirlo tu magari Flavrum Romanum è noto agli archeologi agli studiosi è lo strumento romano che usavano per flagellare i condannati e dato che è composto da sei cordicelle di cuoio alla cui punta ci sono delle ossicine ricavate dalla colonna vertebrale di una pecora fondamentalmente i cui trattati romani dicono scolpiti ad arte da scultori al fine di ricavarne stelle perché queste entrassero nella carne del condannato per ricavarne brandelli queste sulle fonti latine romane di strumenti di tortura voi capite che se prendiamo 120 colpi di Flavrum Romanum frontale e dorsale credo che un po' di sangue ne uscirà quindi è andata proprio così aggiungiamo le ferite da corona di spine aggiungiamo poi le ferite del patibulum che ha portato sulla spalla le cadute anche queste documentate sulla Sacra Sindone eccetera eccetera allora a proposito di Dolci Pasquali adesso vediamo un servizio posso agganciarmi a quello che ha detto Renato perché c'è anche no a livello locale c'è anche una bellissima passione del grande Vito Mauro Giovanni la passione del Cristo che è tradotta in dialetto valese è molto bella veramente è molto bella e lui raffigura una la question dell'emigrazione della muggia e fa diventare tanto lo so che non è strato a memoria lo conosci quindi magari chiusura no ma domani sera approfitto per dire che abbiamo una bella vista guidata proprio con l'itinerario delle piccole della passione e durante la quale leggeremo proprio dei brani della passione di Cristo in dialetto valese allora siccome si dice Dulcis in fundo adesso devo mandare un servizio che ha realizzato la mia collega Serena Russo allora facciamo così andiamo a vedere questo servizio in cui parliamo di dolci di uova e poi chiedo subito a Sandro Romano perché le uova di cioccolato andiamo a vedere il servizio di Serena Russo è la nuova frontiera del romanticismo per chi se lo può permettere la reazione positiva del destinatario è praticamente assicurata una responsabilità non da poco per i maestri della pasticceria mercantile che nella preparazione delle quasi 100 uova di Pasqua artigianale al giorno ricevono di tanto in tanto compiti che vanno al di là delle loro competenze nelle loro sapienti mani anche il futuro di coppie innamorate che affidano ai pasticceri regali preziosi da inserire nel cioccolato e per preziosi sì intendiamo proprio gioielli come questi orecchini di brillanti impacchettati e pronti per diventare parte di un momento che di certo la fortunata che li riceverà faticerà a dimenticare un caso su mille neanche più di tanto ci conferma Leonardo che nella sua lunga esperienza di casi del genere ne ha vissuti più di uno la sospesa più strana è stata quella quando ho messo un anello di brillante dentro all'uovo con tanta cura con tanta attenzione perché anello di brillante è anello di brillante a riprova delle sue parole è già pronto e messo da parte un altro grande uovo di Pasqua il cui messaggio frontale non lascia spazio a molti dubbi ma al netto di casi che rimangono purtroppo abbastanza isolati niente paura perché alle sorprese per tutti gli altri ci pensa alla pasticceria con una selezione che di certo non farà sfigurare nessuno facciamo anche quelli con le sorprese richieste dalla gente che ci portano delle sorprese per mettere per la fidanzata per i fidanzamenti per i bambini per i nipotini da mettere nelle uova ma i veri protagonisti rimangono i dolci uova scarcelle le immancabili colombe pasquali l'attività nel laboratorio è frenetica la catena di montaggio è perfetta dalla produzione al confezionamento un momento di ripresa per il settore dopo i dolori della pandemia ringraziamo anche che si sta riprendendo un attimo per questi due anni che abbiamo un po' avuto di crisi di momenti un po' strani tutto pronto insomma la Pasqua è alle porte resta l'incognita sul nome delle fortunate che riceveranno regali speciali all'interno delle uova ma chi saranno? vuoi che ti dica un nome insomma? uno qualunque uno me ne lascia oddio che ossessione sono i nomi quella gran culo di ceneretto allora crediamo ancora nelle favole tra l'altro possiamo a questo punto chiedere ai nostri compagni mariti insomma chiunque vogliate possiamo chiedere un regalo nell'uovo di Pasqua partiamo subito da Sandro Romano perché l'uovo di Pasqua l'uovo di cioccolato raccontiamo un po' di storia poi vogliamo sapere anche da Michele la storia della scarcella Sandro l'uovo è per la Pasqua il simbolo più importante perché è il simbolo della resurrezione il simbolo della rinascita del corpo e della natura è il simbolo di fertilità quindi è diciamo il simbolo principale della Pasqua che troviamo come abbiamo detto prima in alcuni piatti quindi nel Benedetto ad esempio era uno dei simboli importanti e poi in queste uova golosissime di cioccolata che vengono riempite con la sorpresa che ci serve soprattutto a tenere contenti i bambini arriva il momento durante il pranzo di Pasqua o dopo il pranzo di Pasqua in cui i bambini hanno il permesso la libertà di poter spaccare queste uova e recuperare dall'interno il regalo la sorpresa che poi solitamente è una fesseria diciamo è sempre è più appunto la sorpresa questo non sapere cosa si trova all'interno che crea quel momento di gioia quel momento di gioco che piace tanto ai nostri bimbi qualcuno rimarrà molto spiazzato così come Senera Russo ci ha raccontato nel servizio beato lui beato lei beato chi lo riceverà ovviamente scherziamo bisogna essere felici con poco però ci possiamo permettere un po' di leggerezza ogni tanto la scarcella invece Michele intanto riproduce il bavallino dei bambini il bavallino dei bambini perché come abbiamo detto prima il vero dolce pasquale era il tarallo quello era il dolce pasquale poi piano piano la creatività ecco delle nostre donne perché la scarcella è un dolce tipico barese ecco la creatività delle donne con l'evoluzione ecco si è fatta la scarcella che si abbavava lì delle piscine che poi con un uovo si regala al figlio maschio un uovo si regala al figlio o al figlio o alla figlia con due uova al fidanzato o alla fidanzata e poi con una ghirlanda non mi fa dire con una ghirlanda di uova alla famosa suocera che non deve rompere che non deve rompere che la mettiamo a tacere con una ghirlanda di uova regalata alla sua più pesa puoi dirtela l'altro che le fa neve si questo tipo che la cacacca che non è il primo non hai coraggio giustamente quindi più pesa la ghirlanda di scarcella e meno noi li riceviamo dalla sua la storia ci dà anche dei consigli utili la morte della scarcella qual è Renato? la morte secondo me prenderla e metterla nel latte il giorno dopo quindi parliamo del lunedì Pasqua allora visto che siamo in chiusura chiedo a Michele Loconsole ovviamente abbiamo parlato con leggerezza di questi temi temi ovviamente molto seri soprattutto perché ricordiamo che queste celebrazioni avvengono all'ombra del conflitto in Ucraina che un po' di effetto un po' di ombra getteranno su queste celebrazioni certo speriamo intanto che si ottenga una tregua pasquale anche se i russi sono ortodossi e la Pasqua ortodossa accade in un giorno diverso dalla Pasqua cattolica per questo l'auspicio è che invece la tregua diventi molto più lunga delle stesse Pasque siano cattoliche o ortodosse da un primo punto di vista dall'altro la Pasqua ci porta come ha detto il Papa la speranza della risurrezione di Cristo cioè il fatto che non dobbiamo mai disperare la parola disperanza è il contrario della speranza sperare sempre che dopo il buio dopo il dolore dopo la sofferenza c'è sempre la luce c'è sempre la vita ecco l'uovo l'uovo è la nascita è la vita nuova allora c'è anche un nuovo inizio una nascita che è quella di domani che riguarda Renato e un Michele un Giorgio Michele in realtà lo possiamo dire praticamente abbiamo fatto il terzo brano di Giorgio Michele ovvero il nostro George Michael alla fine e domani debutta appunto con questo terzo video che vabbè prende spunto anzi non prende spunto è proprio quello che wake me up before you go che è diventato pick la carne clapacim sul fuoco quindi è la colonna sonora perfetta per Pasquetta assolutamente infatti lo vedrete da oggi da domani scusate come sigla finale del Cerdatano quindi sintonizzatevi dalle 13 alle 14 sempre su Telebari e Radio Bari Silvia Di Sandi che è anche direttore di produzione il tuo autore ci raccontava che sarà proprio un inno alla leggerezza perché ne abbiamo bisogno in questo momento ne abbiamo bisogno tutti pick la carne clapacim sul fuoco questo tutto sulle note di due ci fai la faccia della scarcella Renato? a un uovo o a due? allora quello che si regala al figlio o un uovo ricordatevelo eccolo qua così invece poi c'è due che si regala alla fidanzata così o al fidanzato ok perfetto questo è quando non viene benissimo il fuoco la faccia una scarcetta allora io ringrazio Sandro Romano giornalista grazie Sandro per essere stato con noi giornalista gastronomico io non vi sento più però purtroppo non vi sento più ci stiamo salutando Sandro perché siamo in addirittura d'arrivo grazie a Michele Fanelli del Circo L'Acri D'Alfino grazie a professor Michele Loconsolo docente di religione e grazie a Renato Ciardo che troverete domani mattina nel Ciarratano con il nuovo video di Giorgio Michele quindi non perdetelo grazie a voi per averci seguito come sempre ringrazio la regia con Giuseppe Mondelli Michela Queviva e Gianluigi Maggi grazie soprattutto a voi per averci seguito e ovviamente buona Pasqua questo programma è offerto da Banca Popolare di Puglia e Basilicata grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori